Mezzi carbonizzati, sirene spiegate e un'intera palazzina invasa dal fumo nero. Questo lo scenario dell'incendio di Vampato intorno alle 13 a Cossignano, nella provincia di Ascoli Piceno. Le fiamme sono partite da un'autocisterna in sosta contenente gasolio, dunque una situazione potenzialmente molto pericolosa. Tragedia evitata grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto, i quali giunti sul posto con nove automezzi hanno spento rapidamente le fiamme con liquido schiumogeno. Una palazzina di tre piani è stata dichiarata inaccessibile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienicità. Danneggiato in parte anche un casotto di un cantiere edile installato nei pressi dell'edificio. Non risultano fortunatamente persone ferite, ma sul posto sono giunti prudenzialmente anche i sanitari del 118. La situazione è tornata sotto controllo, ma sono stati momenti di grande paura per i residenti della zona, visto che nei pressi del rogo sono presenti diverse abitazioni, tra cui l'edificio danneggiato dalle fiamme e per ora inaccessibile, a seguito del sopralluogo finalizzato a verificarne la staticità. Le fiamme hanno danneggiato gli infissi degli appartamenti e il fumo è penetrato all'interno. I vigili del fuoco, dopo aver spento il rogo, hanno effettuato la bonifica e messa in sicurezza dell'area. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri. I militari dell'arma sono già al lavoro, infatti, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.